Sono rifatti, però sono sempre stati così dall'epoca. Sono stati ristrutturati. Ma è vero che qui c'erano tutte le case con sotto la bottega e sopravvivevano? Certo. C'erano intagliatori, c'erano falegnani. Questa era la bottega di un intagliatore, ad esempio. E mi attaccionavano così. L'artista era. Questa era una bottega di un falegname. Ok. Questo a un tempo era una via che collegava la via... La Patti Zelati. La Patti Zelati che collegava il borghetto. Ok. Questa è una rossa aperta. Adesso.